Benvenuti a Salute Sanità, io sono Eva Perasso, Salute Sanità è il nostro magazine sui temi del benessere della persona, della salute, delle patologie che riguardano l'intero corpo umano Oggi siamo in compagnia del dottor Edro Colombini, benvenuto Grazie, buongiorno a tutti Edro Colombini è specialista in chirurgia plastica, è stato direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica del CTO di Torino e successivamente della città di Torino, oggi libero professionista, opera in Liguria nel nostro territorio presso il Priamar di Savona Col dottor Colombini trattiamo un tema, per noi è la prima volta e la ringraziamo per averci portato questo argomento che è la lipoemulsione, perché noi donne soprattutto ma anche gli uomini sentiamo spesso parlare di liposuzione per trattare le piccole adiposità tanto fastidiose per la figura, per la linea estetica ma ancora non avevamo sentito parlare tanto di lipoemulsione e allora la prima cosa che chiedo al dottor Colombini è di raccontarci anche qual è la differenza tra questi due trattamenti Dunque la lipoemulsione innanzitutto è un trattamento minimamente invasivo che sta a cavallo tra la medicina estetica e la chirurgia estetica ma totalmente spostato verso la medicina che permette di eliminare anche masse cospicue di grasso pur che questo sia localizzato e non generalizzato si svolge in ambiente non di sala operatoria non necessita di un'anestesia generale ma soltanto di un'anestesia locale ed è mini invasivo con dei postumi assolutamente compatibili con la vita normale di tutti i giorni quindi con il lavoro, con lo sport e con le discipline che chiunque debba affrontare nella sua quotidianità Possiamo dire che abbiamo da un lato la liposuzione che è un vero intervento chirurgico quindi più invasivo rispetto alla lipoemulsione che invece è un trattamento di medicina estetica in cui il paziente poi non ha così tanti postumi anzi la tipologia di postumi poi è diversa è assolutamente diversa perché in realtà la liposuzione è un trattamento attraverso il quale meccanicamente con delle cannule, con dei becchi di flauto leggermente taglienti con delle manovre di su e giù frantumiamo i lobuli adiposi e li aspiriamo in un contenitore e possiamo trattare contemporaneamente tante zone quindi nel caso di una persona che abbia un grado di obesità non elevata possiamo trattare contemporaneamente addome, fianchi, cosce, braccia per dire perché si svolge in anestesia generale ma il trattamento è chiaramente traumatico di fatti gli esiti sono poi in echimosi abbastanza importanti nell'impossibilità di praticare dello sport per un certo periodo nella necessità di portare delle compressioni per modellare meglio le aree trattate per 5-6 settimane e con una necessità a volte di correzioni postume nel 10-15% dei casi la lipoemulsione è un trattamento completamente diverso perché il grasso in realtà non viene frantumato ed aspirato ma viene sciolto in che senso viene sciolto? tramite una sonda che ha il diametro del refill di un abiro quindi parliamo di 3 mm si inserita naturalmente tramite un trattamento di anestesia locale preventivo inserita nel grasso vengono emessi degli ultrasuoni i quali hanno la facoltà di rompere la membrana cellulare quindi ogni ipocita può essere soggetto a questa rottura e come la membrana cellulare si rompe il grasso si versa nell'interstizio una volta andato nell'interstizio in una piccola parte viene riaspirato alla fine del trattamento e in una parte più cospicua il nostro metabolismo lo riassorbirà proprio con l'attività fisica nel giro di 30-60 giorni dunque mi pare di capire che le differenze sostanziali siano intanto la mini invasività di questo tipo di trattamento l'anestesia che quindi è un'anestesia locale e non generale come nell'altro caso e poi soprattutto la possibilità di ricominciare a vivere immediatamente la propria vita senza neanche portare addosso per lungo tempo i segni assolutamente in effetti la persona il giorno in cui subisce il trattamento sta a riposo a riposo per modo di dire nel senso non va a lavorare proprio quel giorno lì durante la notte può continuare a perdere un quantitativo di questa emulsione rosacea e dal giorno dopo la secrezione termina il giorno dopo può andare a lavorare e in terza giornata può cominciare a praticare dello sport anzi se lo pratica è meglio perché accelera il metabolismo e quindi il riassorbimento di ciò che rimane le chimosi sono minime addirittura in molti casi inesistenti quindi rispetto a una liposuzione possiamo dire che quando c'è una grande chimosi è il 10% di quello che si verifica normalmente per una liposuzione e quando non c'è è totalmente assenza e quindi naturalmente va benissimo e in ogni caso il riassorbimento è un riassorbimento che nel giro di 15 giorni è completato totalmente non necessita di compressioni per lungo tempo è opportuno portarle per una quindicina di giorni quindi fasce elastiche che aiutino il compattamento dei tessuti ma 15 giorni sono più che sufficienti non è un trattamento doloroso nel postumo l'indomani le persone ripeto fanno la loro vita tranquillamente e quando arrivano invece i risultati che sono quelli che più interessano poi magari gli spettatori i risultati arrivano già dopo una quindicina di giorni abbiamo risultati chiari adesso lo vedremo anche poi nelle immagini facciamo vedere qualche immagine tra qualche cosa che ha fatto i 60 giorni e qualcosa che magari ne ha passati una ventina i risultati definitivi stabili sono a 60 giorni i risultati visibili a occhio nudo per la paziente e per il paziente dopo una quindicina di giorni sono già abbastanza chiari ed è una cosa che si fa una volta sola nella vita? una volta sola nella vita come una liposuzione questo naturalmente dipendendo sempre dall'igiene alimentare di vita della persona è chiaro che se una persona da quel momento come in una liposuzione mangia solo carboidrati fa una vita sedentaria allora e beve whisky chiaramente magari la possibilità di recidiva esiste ma se da quel momento osserva quattro norme elementari cioè di nutrizione e di comportamento non dovrà mai più avvicinarsi a questo tipo di trattamento diciamolo sì forse dovevamo dirlo all'inizio ma non è che la liposuzione risolva i problemi dello stile di vita cioè lo stile di vita sano deve essere sempre alla base e che spesso noi soprattutto noi donne cerchiamo di dimagrire ma non dimagriamo mai nei punti in cui vorremmo dimagrire e questo trattamento è proprio mirato a quello nel senso che è particolarmente specifico per le aree di accumulo non per chi è diffusamente grasso in questo caso è molto meglio sottoporsi a una liposuzione ma per chi ha un'abbondanza a livello delle gambe o delle cosce veramente o delle ginocchia oppure dell'addome o dei fianchi magari delle braccia o il sottomento cioè qualcosa di localizzato e non generalizzato che poi le localizzazioni possono anche essere due o tre che si possono trattare separatamente e questo è anche un fatto allora dottore magari chiedo alla regia di mandare in onda la prima slide così proviamo a commentare dei prima e dopo dei prima e dopo va bene allora in questo caso siamo partiti dal basso l'ipoemulsione può essere applicata alle caviglie ai polpacci alle ginocchia alle cosce all'addome ai fianchi alle braccia e al collo quindi abbiamo detto un po' tutto in questo caso abbiamo un'immagine di ginocchia sono le ginocchia di una persona un po' più datata sui 64 anni che voleva migliorare un po' l'immagine delle sue gambe portando una gonna e vediamo che non so se si dice a sinistra del teleschermo o a destra a sinistra del teleschermo c'è un prima con dei rigonfiamenti sia laterali delle ginocchia sia nella parte superiore delle ginocchia e poi dopo a distanza in questo caso di 60 giorni vediamo che anche il texture come si vuol dire anche la regolarità della cute è migliorata e l'aspetto del ginocchio è un aspetto molto più giovanile ecco ci spostiamo dalle ginocchia all'interno coscia all'interno coscia qui ho portato un caso limite per far capire come funziona questa tecnica questa è una signora che a mio giudizio non aveva assolutamente niente cioè un po' di contatto dell'interno coscia a gamma vedete che le ginocchia non sono chiuse ci può stare è una signora di 45 anni che però non ne voleva sapere non voleva avere quel tipo di contatto si è sottoposta al trattamento sull'interno coscia e questo è il risultato a 60 giorni quindi un risultato che nel suo piccolo è veramente molto molto soddisfacente certo allora andiamo avanti con un esterno coscia invece questa invece è una signora che avrebbe dovuto sottoporsi a una liposuzione perché il problema è di tutte tutta la coscia e anche della zona delle natiche che non aveva assolutamente intenzione di entrare in una sala operatoria mi ha spiegato che il suo problema era poter infilare un paio di pantaloni soprattutto una gonna che fino a quel momento gli era stato impossibile in quanto la circonferenza del pantalone o della gonna per passare dalle cosce doveva essere abbondante molto abbondante poi in vita non la poteva chiudere e mi ha chiesto semplicemente se era possibile con questa tecnica così poco traumatica ridurre il volume laterale della zona superiore della coscia ho risposto di sì l'obiettivo sembra ampiamente raggiunto direi è ampiamente raggiunto e oggi la signora si veste correttamente già che ha parlato di chiudere i pantaloni allora andiamo avanti facciamo vedere un po' di addomi un po' di addomi per i pantaloni benissimo questo è un risultato molto significativo a 60 giorni di una donna di 45 anni con questa panciotta abbastanza rotonda che voi potete distinguere chiaramente e che ha fatto anche lei il suo unico trattamento e il risultato è molto bello perché sembra perfino un'altra persona garantisco che è la stessa persona e che questo si ottiene con la liposuzione in questo caso voglio far vedere un trattamento completamente diverso di una donna che ha già molti difetti una donna giovane anche questa però con un addome completamente smagliato con delle adiposità dislocate in maniera asimmetrica ha avuto tre gravidanze un addome anche molto rilassato e in questo caso ho voluto far vedere che è un caso più grave un risultato a 15 giorni quindi questo è quello che si può vedere già dopo 15 giorni a seguito di una lipoemulsione e poi passiamo anche all'uomo perché abbiamo parlato solo di donne finora in realtà suppongo che ci sia anche una parte dei suoi pazienti di sesso maschile c'è un'ampia richiesta da parte degli uomini qualcuno pensa che gli uomini non si avvicinano mai all'estetica questa è una è una favola degli anni 70 ma del terzo millennio non più è cambiato ampiamente l'atteggiamento questo è un ragazzo di 34 anni che aveva un problema sia di addome che di mammella che si è sottoposto a un trattamento in due tempi naturalmente l'addome prima e la mammella dopo di lipoemulsione e questi sono i suoi risultati a 60 giorni di distanza l'addome e a 40 giorni di distanza la mammella quindi completamente quando si trattano due si devono trattare due parti diverse comunque i due trattamenti si possono fare ravvicinati assolutamente il problema per cui non li possiamo fare insieme è un problema anestesiologico cioè io quando faccio un trattamento devo mettere dell'anestetico locale non posso mettere tutto l'anestetico locale che è necessario per non far soffrire una persona perché abbiamo dei parametri fissi per ciascuna persona quindi è logico che posso usarne quanto mi basta per soddisfare il fabbisogno di una certa zona se c'è un'altra zona la posso anche trattare tre giorni dopo se il paziente è d'accordo non la posso fare solo contemporaneamente perché non è stato ancora metabolizzato l'anestetico quindi solo un problema di anestesia locale intanto la regia stava mandando in onda un secondo caso di addome e seno maschile vediamo in questa slide che è analogo al precedente qui abbiamo un risultato definitivo sia di addome che di seno perché sono passati 60 giorni sia dal trattamento dell'addome che dal trattamento del seno e come vedete il risultato è molto bello questo è un ragazzo tra l'altro anche lui giovane che fa palestra e che quindi ha anche delle aspettative dal punto di vista muscolare e adesso ha cominciato ad allenarsi per mettere anche dei muscoli importanti sviluppare la muscolatura insieme al risultato estetico ci manca quella famosa parte chiamata le maniglie dell'amore che uomini che donne hanno sul loro corpo esatto tra l'altro in questo caso per esempio vedete questa persona vi sembra addirittura che non sia la stessa persona se voi fate un esame dei nei che potete vedere benissimo sullo schermo avvicinandovi sono nella stessa posizione è proprio la stessa persona non è un'altra perché questa persona aveva una larghezza di fianchi molto importante ma invece la cassa toracica se la guardate anche nella prima fotografia è una cassa toracica piccola che non è cambiata quindi facendo un trattamento profondo sui fianchi ha cambiato radicalmente il proprio aspetto e da questa slide potete anche evincere quali sono qual è l'importanza delle incisioni che noi facciamo per introdurre la famosa cannula da 3 mm di diametro e le sonde da 3 mm per aspirare quel minimo di liquido alla fine del trattamento perché quelle due specie di nei laterali simmetrici che sono rimasti a diciamo 5 cm sopra lo slip nero sono i due esiti a 60 giorni dei buchini che vengono fatti quindi quindi quella è l'importanza della cicatrice che andiamo a creare uguale a un nero faccio ancora vedere guardi faccio vedere però il fianco dell'uomo perché il tempo a disposizione sta questo è un maschio che si è sottoposto a una liposuzione parecchi anni fa e poi non è stato contento del risultato nel tempo ed è venuto a chiedermi un miglioramento e voi vedete come nella foto di destra è cambiato l'aspetto i fianchi sono più segnati anche se abbiamo trattato un esito di liposuzione bene io ringrazio il dottor Colombini davvero dalle immagini i risultati sono sorprendenti pensando che non si tratta assolutamente di un intervento né invasivo né chirurgico assolutamente e quindi ringrazio il dottor Edro Colombini che lavora presso il Priamar di Savona di essere stato con noi lo invito a tornarci a trovare magari per riraccontarci nuovi casi di medicina estetica nuovi trattamenti agli spettatori arrivederci alla prossima puntata arrivederci a tutti grazie a tutti